ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati su blitz game e su rimworld oggi continueremo la nostra avventura con il nostro blitz game in modalità bruttali nacket che è la più difficile dell'intero gioco qui c'è un visitatore che sta arrivando dunque come diplomazia era un po scarsino però va bene lo stesso appena questo si avvicina prima che il nostro momento vada letto comunicano allora vediamo un po no guarda qui non hai niente che mi può essere utile a posto allora potremmo utilizzare quest'area come dispensa momentanea finché non avremo pronte l'effettiva dispensa allora facciamo una cosa smantelliamo ordini smantella smantelliamo quest'area e la ricostruiremo poi qui attaccata alla nostra casa so che per il momento casa nostra sarà una cozzaglia di di strutture fatte a caso però per il momento ci dobbiamo accontentare dunque costruzione 2 adesso sale però almeno sale alla svelta che non non ci ho guardato si no costruzione no non sale alla svelta va bene posto dunque blocchi di granito potremmo fare una cosa di questo tipo strutture muro di granito facciamo una cosa del genere con l'entrata da questa parte minchia allora salute curati chi chiudiamo gli avvisi poi allora va bene lasciamo che costruisca quest'area intanto zona deposito per il cibo niente armi poi materie prime no manufatti quindi le medicine si consente il marcio no ok poi cercheremo un modo per tenere il cibo al fresco dunque noi possiamo già costruire qualcosa a livello energetico giusto ehm 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 turbina eolica costruzione necessaria a quattro livello quattro e lui quanto ha che non mi ricordo ehm due mh materiale elettrico materiale elettrico ehm figurati allora facciamo una cosa diamogli la priorità finire di smantellare finire di smantellare prima tutto il muro ok poi costruirà con calma più tardi prima però deve finire di smantellare tanto che ci siamo potremmo anche fare una piccola zona agricola sempre 5 6x5 vabbè dai dove far crescere delle piante che non è pianta di cotone ma piante che ci producano legna se è possibile l'orgiglio piante di non non è possibile eh e che ma no ma non ci credo e vabbè allora la disecurativa anche se per il momento non può farla allora poi rimuoviamo i pavimenti molto bene tac 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 come fa la svelta eh un gruppo di viaggiatori ma commerciano o sono no sono solo viaggiatori vabbè vabbè qui dobbiamo dare l'ordine di raccogliere ok qui di cosa hai bisogno vabbè di riposo il cibo eh cibo pochino eh pochino pochino qui come va allora nodo va bene adesso dobbiamo trovare qualche altro coniglio da scuogliare intanto che lui raccoglie il suo cibo conigli dove voi siete visto che abbiamo già dell'altra pelle di coniglio va bene struzzo struzzo vabbè caccia lo struzzo e caccia lo struzzo oddio un ride oh signore che arma ha questo coltello d'acciaio allora io direi che potrebbe essere il caso di salvare la partita ok salva perché qui ragazzi è molto facile schiattare avendo un solo personaggino anche malarmato è abbastanza semplice che succeda qualcosa di brutto ah questo cosa fa attacca direttamente no 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 allora prima di tutto occupiamoci del ride che è un po' più importante questo qui è lì in fondo ok mettiamoci qui un po' più importante dai 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 ok cacchiarola dai colpiscilo e che caspita fai dai meno male che t'ho scelto con una mira della miseria eh o mai dal sud brutta persona che a te dai parca dos oh buona questo ce lo prendiamo il coltello ce lo prendiamo questo lo spogliamo e siamo a posto perfetto il ride l'abbiamo passato perfetto il ride l'abbiamo passato avvestiamo questo salute si è già medicato molto bene allora vediamo un po' questi visitatori l'abbiamo passato e Macelliamo questa bestia Autorizziamo a spogliare questo qua Vabbè Scusa eh Svesti sto qua Indossa Indossa Almeno non sei nudo Vabbè, pantaloni di un morto Vabbè, per il momento Fateli andar bene Almeno non sei più nudo Svago insoddisfatto Eh, per lo svago Cosa potremmo fare? Paro di cavallo, dai Poi Per evitare di avere Gente morta in giro Possiamo anche fare le tombe Facciamone una decina Questi se ne stanno andando Dalla via delle scatole Molto buono Allora Ambiente sgradevole Ambiente sgradevole Eh, ho capito Ambiente sgradevole Ok Ehm, mobilio Facciamo un vaso di fiori in granito Eh Facciamo un e4 Va bene ragazzi Io direi che Anche per questo video è tutto Ehm Noi ci ribecchiamo al prossimo episodio Iscrivetevi al canale Lasciate un like se vi piace il video Se avete suggerimenti Commenti Scriveteli pure in descrizione Li leggerò E vi risponderò Al prima possibile Noi ci salutiamo Ci ribecchiamo Al prossimo episodio Ciao ciao